Occupazione e assemblee studentesche non sono per gli studenti baresi un pretesto per divertirsi ma sono momenti di confronto nel quale avanzare proposte concrete per colmare il disavanzo di 52 milioni di euro. Maria Cristina De Carlo. La protesta degli studenti baresi continua senza sosta. La scorsa settimana i ragazzi di scienze politiche hanno occupato le aule della loro facoltà. A loro si sono uniti gli studenti di giurisprudenza, economia, lettere e quelli del Politecnico. Una manifestazione insomma che si sta espandendo a macchia d'olio. Questa mattina è stata indetta un'assemblea studentesca da parte degli studenti di lettere e filosofie e questo pomeriggio verrà presentato un documento scritto dai ragazzi in questi giorni nel quale vengono avanzate le proposte per colmare il buco di 52 milioni di euro che emerge dal bilancio annuale. L'occupazione e le assemblee non sono un pretesto per divertirsi ma sono uno strumento che servono per costruire proposte valide. Oggi c'è la presentazione di un piano che è stato fatto dagli studenti, è un piano molto valido per come non aumentare le tasse e è un piano anche che riguarda una diversa concezione proprio di fasce del reddito di tassazione agli studenti. Una protesta silenziosa che va avanti dal 19 novembre scorso data nella quale il rettore aveva promesso la diminuzione delle tasse ma quello che oggi emerge è un disavanzo di oltre 52 milioni di euro causato da anni di cattiva amministrazione dall'Ateneo e dalle politiche di finanziamento del sistema universitario nazionale. Sport e solidarietà nella quindicesima edizione di Bari in Corsa. Ieri di scena sul lungomare di Bari. Il servizio. Sono arrivati da tutta Italia 5.000 podisti in gara per Bari in Corsa. Tre gli eventi promossi da Franco Granata che hanno caratterizzato la quindicesima edizione Maratonina dell'Evante, Correndo per Bari e Maratolice. Ad aggiudicarsi la manifestazione per la sesta volta Vito Sardella con un'ora, 8 minuti e 48 secondi. I sei titoli significa che sono sei anni più vecchio, anzi sette, perché l'anno scorso sono arrivato secondo. Quindi sento un po' la pesantezza dell'età, la difficoltà di recuperare soprattutto dopo gli allenamenti. Comunque sono contento e va bene così. Finché si vince l'età non la penso e finché ho voglia continuo a correre. Ma il successo dell'evento è soprattutto nei numeri, folta la partecipazione non solo alla Maratonina dell'Evante ma anche alle due corse non competitive. Alla fine quando si ingara è tutta un'altra cosa, ho detto qui oggi faceva molto caldo quindi il caldo comunque ti fa perdere un po' di secondi durante la gara quindi alla fine è andata bene. L'importante era finire anche se piove, io ho fatto altre manifestazioni tipo Bari Maratona, Vivi Città, qualsiasi sia il tempo occorre però quando fa troppo caldo si sente, però l'importante è finire. A differenza degli altri atleti dobbiamo correre per esigenze di servizio, se non il generale si arrabbia. Quindi per noi è un destino di vita diciamo. Quindi unite l'utile e il dilettevole al ritmo di gran cassa. Visto che dobbiamo correre per lavoro, corriamo anche per diletto. A margine da segnalare il premio Michele Campione ha segnato come ogni anno il miglior servizio dedicato alla manifestazione che quest'anno è andato ad Alessandra Bucci di Telebari. 10.000 baresi hanno assistito alla rievocazione del gran premio di Formula 1 che mancava nel capoluogo dal 1957. ieri la gara di regolarità di 30 auto rigorosamente costruite negli anni dal 1947 al 1956 sul percorso che circonda il Borgo Antico. L'evento è stato organizzato dall'Old Cars Club. Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo sereno, temperature comprese tra 15 e 24 gradi, venti moderati, mari calmi. In chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it e www.radiobari.net. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, a più tardi con l'informazione di Telebari. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito.